I giovani sono interlocutori privilegiati delle istituzioni e tra organismi elettivi e mondo della scuola va coltivato un dialogo più stretto. Con questo messaggio il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Marino Finozzi, ha inaugurato a Padova Expo Scuola 2008, il Salone della Scuola e dell'Orientamento Scolastico e Professionale. Obiettivo del Consiglio, presente per la prima volta con un proprio stand e un laboratorio sul lavoro del legislatore, è sensibilizzare ragazzi e giovani alla vita democratica e alla partecipazione attiva. Tra le iniziative dell'Assemblea Veneta, esposte nella follata fiera di Padova, il programma di educazione civica ha sviluppato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale, un gioco multimediale che simula la campagna elettorale, un portale web interattivo e il concorso per le scolaresche degli istituti superiori su diversi aspetti della vita democratica. La partecipazione civica è il primo obiettivo del Consiglio regionale, da tempo stiamo utilizzando qualsiasi strumento per far partecipare i cittadini alla vita del Consiglio regionale e della pubblica amministrazione, invitando scuole, invitando i cittadini a visitare il palazzo che riteniamo sia casa loro, casa dei Veneti e utilizzando tutti gli strumenti innovativi che oggi la tecnologia mette a disposizione.